Con queste parole il noto cantante neomelodico Tony Marciano si è presentato ai giornalisti durante il suo arresto avvenuto questa notte nell'ambito di una vasta operazione che ha dato esecuzione a 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dai carabinieri di Torri Annunziata su richiesta della DDA di Napoli nei confronti di esponenti e gregari del clan Giunta. Nel corso delle indagini è stato documentato che gli indagati erano dediti al traffico dall'Olanda di ingenti quantitativi di cocaina, hashish, marijuana e amnesia, un micidiale mix di marijuana e droghe pesanti con effetti devastanti sul sistema nervoso centrale. Con la droga importata dall'estero il gruppo riforniva numerose piazze di spaccio gestite o comunque sotto il controllo del clan Giunta a Torri Annunziata e nei comuni limitrofi. Tra gli arrestati Carmela Nasto figura di spicco dell'organizzazione criminale. L'arresto del lugola d'oro del clan conferma la sottile connessione tra una certa fascia di cantanti cosiddetti neomelodici e la criminalità organizzata. L'arresto del lugola d'oro del clan Giunta a Torri Annunziata. L'arresto del lugola d'oro del clan Giunta a Torri Annunziata. L'arresto del lugola d'oro del clan Giunta a Torri Annunziata. L'arresto del lugola d'oro del clan Giunta a Torri Annunziata.